ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come marco liorni si prepara a condividere una gioia immensa con i suoi seguaci emozioni sono alle stelle per un amato conduttore conosciuto per la sua spontaneità solare e gentilezza ha una nuova notizia per i fan marco liorni la bellissima notizia per il conduttore anche se il periodo è impegnativo non mancano le ragioni per sorridere recentemente è giunta una notizia che ha portato sia lui che il suo pubblico a sentirsi come in paradiso un annuncio tanto atteso che ha confermato le aspettative e ha scatenato celebrazioni sui social network dove i fan più devoti non hanno esitato a mostrare il loro supporto dietro le quinte di viale mazzini importanti decisioni sono state prese riguardo il game show l'eredità e in particolare su chi assumerà il ruolo di conduttore dopo la gestione precedente di flavio insinna che ha guidato il programma con la sua caratteristica ironia e le voci che indicavano pino insegno come possibile successore la scelta è caduta su un altro sarà proprio marco liorni a regalare il suo carisma e professionalità come nuovo conduttore dell'amatissimo game show preserale lui guiderà per il quinto anno consecutivo il programma reazione a catena che quest'anno si estende fino al 31 dicembre in merito ha dichiarato se pensiamo che è nato come gioco estivo è una bella promozione e ha aggiunto con orgoglio mi fa effetto pensare che anche il giorno di natale ci sarà reazione a catena sottolineando che non ci saranno giorni di pausa per lui in televisione non è tutto questo conduttore è stato anche confermato alla guida di italia si dissipando così i dubbi su una sua possibile esclusione ha dichiarato è un programma a cui tengo molto riesco benissimo a dividermi tra le due trasmissioni dimostrando entusiasmo e dedizione per entrambi i progetti nonostante un'agenda fitta sembra pronto a intraprendere questi nuovi impegni con passione a a Grazie a tutti.